Valentino non fa altro che mettere il rapporto, la cultura e la storia e il lavoro della comunità di Pieve al Toppo nella seconda metà del secolo scorso però agganciandola alle sue radici e quindi tornando indietro e parlando di quello che qui è avvenuto quando 700 anni fa con la battaglia di Pieve al Toppo Valentino Minocchi racconta così la storia ed i segreti di Pieve al Toppo nel volume realizzato e pubblicato con il sostegno del comune di Civitella Pieve al Toppo, storia, lavoro e cultura di un borgo dell'Alta Val di Chiana. L'autore in questa pubblicazione storicamente documentata ripercorre alcuni aspetti dell'ultimo secolo della storia di Pieve al Toppo offrendo un affresco storico e sociale del territorio e nei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nei locali della parrocchia di San Giovanni Battista è stata allestita anche una mostra dedicata proprio alla battaglia di Pieve al Toppo dove sono stati messi in esposizione dei manufatti realizzati nel 1988 ovvero un grande plastico di 6 metri quadrati con il quale è stata ricostruita la battaglia della Pieve al Toppo del 1288 quando gli aretini riportarono un'importante vittoria nei confronti delle truppe senesi di rientro verso Siena e altre opere tipo La Lancia d'Oro realizzata nel 1988 da Francesco Conti, noto in tagliatore al retino e vinta dal quartiere di Porta del Foro con i cavalieri Capacci e Parigi. Poi abbiamo L'Olmo d'Oro realizzato nel 2018 sempre da Francesco Conti per il Palio dei Rioni di Olmo e che qui fa la sua bella mostra di sé anche perché il Palio stesso è dedicato alle giostre dal toppo inoltre è stato possibile recuperare anche un passato culturale di altro livello e di altro spessore ovvero le giostre dal toppo, un dramma storico e culturale messo in scena da Pier Francesco Greci e recitato dal Teatro Stabile di Mugliano che nasce proprio in quel 1988.